Incidente molto grave a Casamicciola, fortunatamente non è successo niente, in effetti un rimorchio è finito a mare, ma Ferdinando tu che hai visto quello che è accaduto? Quello che ho potuto vedere, io stavo sulla salita dove sta quella rete verde, soprattutto al piazzale, il macchinario era parcheggiato lì dove stavano le transin, dove stanno quelle transin e ho visto che è partito verso giù. In effetti probabilmente non c'era nessun blocco, nessun freno? No, si sarà rotto qualche tubo d'aria che mantiene i freni e è partito giù. È un rimorchio che serve a cosa? A triturare in legno della frana, degli alvi, dei canali. Fortunatamente nulla è successo? Sì, qualche disgrazia, per fortuna è andata bene come è andata.